bella ragazzi qualche ottimo vigilia d'italia austria ragazzi partita decisiva si inizia entra nel vivo degli ottavi degli europei fate anche volendo se non volete fare il vostro pronostico nei commenti ma signori io qua mi sono chiesto ma cosa pensano i tifosi dell'austria dell'italia della nazionale italiana che sta facendo impazzire il mondo perché sta rubando l'occhio con il suo grande gioco il grande gruppo grande entusiasmo ma domani sarà tutto cancellato questo si partirà 0 a 0 partita difficile una squadra solita magari non con grande qualità ma che ha un'identità precisa quindi come avete capito sono andato un po spulciare nei social dell'austria che devo dire mi aspettavo più attivi diciamo sono un po molli e sono invasi comunque dai tifosi italiani quindi ecco l'entusiasmo si vede anche da qui ma partiamo magari un attimo prima dalle probabili formazioni mancano più di 24 ore però dovrebbero essere queste già per darvi un'idea allora l'italia dovrebbe schierarsi col suo solito 4 3 3 confermatissimo donna ruma in porta di lorenzo perché florenza piamo non sta benissimo bonucci a cerbi quindi chiellini non dovrebbe farcela poi comunque non è al meglio a cerbi da garanzie spinazzola sulla sinistra ragazzi puntiamo tanto su di lui barella giorgine verratti quindi locatelli dovrebbe sedersi in panchina ma pronta a subentrare berardi immobile insigne quindi ritorna poi il trio delle meraviglie là davanti l'allenatore lo sappiamo il grande roberto mancini mentre l'austria 4 3 2 1 quindi modula d'albero di natale diciamo a specchio più o meno con l'italia backman in porta del watford leiner dragovic inter regger ve lo ricordate anche in ottica lazio gli anni scorsi alaba che dovrebbe giocare da terzino quindi per permettere magari maggiore spinta per esempio con l'olanda aveva giocato da difensore centrale poi limer grillis schlager i tre di centrocampo baungarten attenzione a questo giocatore classe 99 che è stato il giustiziere dell'ucraina di shevchenko sabitzer dell'ipsia lo conosciamo classe 94 e marco arnautovic che ha vinto il triplete non da protagonista con la maglia dell'inter e dovrebbe essere promesso sposo del bologna di sinisa mia luci allenatore foda io il pronostico già l'ho fatto e lo trovate qua lo faccio l'abbiamo fatto ieri sera in live ve la lascio qui in alto a destra nelle schede comunque immobile un gol lo fa e vi posso dire questo ma ragazzi il dubbio è amletico cosa pensano i tifosi dell'austria della nazionale italiana ma prima ragazzi mi raccomando o se volete la maglia dell'italia perché ghiotto direi ma scusa ma io non c'ho la maglia dell'italia e dove la posso comprare sei calcio ragazzi questa è la maglia che abbiamo indossato con la turchia un bellissima maglia bianca ma veramente questi dettagli sono veramente carini mi arriverà anche la prima perché poi la prima blu è sempre quella storica quindi mi raccomando prezzi modici sei calcio link in descrizione usufruite il mio codice sconto 99 perché perché non approfittarne scusate dato che c'è come detto sono andato sul instagram ufficiale dell'austria pochi commenti e diciamo forse non so il calcio in austria non è molto sentito non lo so profilo come detto invaso dagli italiani perché spesso sono i nostri profili invasi questa volta è un po al contrario ma andiamo a vedere alcuni messaggi non ho trovato molto ma perché purtroppo il materiale era quello che era allora c'è uno che dice contro l'italia sarà fondamentale buona fortuna e io qua non aggiungo altro dico che anche per noi è la stessa cosa e abbiamo tutto da perdere perché affrontando l'ansia tutti gli occhi saranno puntati su di noi c'è entusiasmo c'è fiducia e dovremo imporre al nostro gioco nessuna paura ma sicuramente quelli che hanno più da perdere siamo noi un altro commento che poi ho trovato sotto una foto dichiarazioni del portiere backman appunto del waterford che sta facendo molto bene poi l'austria una difesa abbastanza solida un tifoso che dice backman può diventare una figura chiave contro l'italia quindi immobile insini mi raccomando cercate di smentirlo però è un ottimo portiere io ho notato comunque una solidità difensiva sono molto organizzati la squadra austriaca nonostante con l'olanda ad esempio hanno preso tre gol però vabbè l'olanda è una qualità superiore speriamo di fare così e anche noi e poi c'è uno invece un po provocatorio quindi forse non hanno così paura di noi in effetti io non ho trovato commenti di gente disfattista che dice chi è l'italia per favore quindi questo un po spavaldo secondo me lancia una previsione domenica questo qui si cancella dai social sempre lo stesso tifoso dice alabala nella tempeste andrà tutto bene quindi questo significa che loro puntano molto su alaba devo dire che il giocatore nell'europeo che ha creato più occasioni da gol un giocatore importante che per me da terzino può rendere al massimo perché il difensore centrale è un po limitato in una squadra comunque giocherà probabilmente col baricentro un po più basso alaba serve per alleggerire la manovra vabbè alaba non ve lo devo presentare io tra l'altro ha compiuto gli anni pochi giorni fa quindi sicuramente è carico e per finire sotto un post di marco arnautic che è mancato ad esempio contro l'olanda perché era squalificato un giocatore importante perché tolto arnautic poi non hanno grandi numeri 9 in rosa e un tifoso che dice meglio ancora due gol perché marco ha promesso almeno un gol una marcatura lui che appunto è già stato in italia e dovrebbe tornarci a breve per giocare a renato dall'area di bologna e lui dice meglio ancora due gol mi auguro due gol io spero ne faccia uno ma ne faccia due magari il bomber editora annunziata ciruzzo immobile quindi ecco la mia previsione comunque che l'italia andrà a vincere dai ve lo dico 2 a 1 2 a 1 con almeno un gol di immobile mi auguro quello decisivo e poi andremo a affrontare la vincente tra belgio portogallo ma ci sarà tempo per pensarci ora dobbiamo concentrarci su domani non prevedo una partita facile assolutamente perché una squadra secondo me più quadrata più solida di svizzera di turchia del galles e poi risultato maggiore nella loro storia l'austria non è mai arrivata agli ottavi di finale di un europeo arrivare i quarti sarebbe quasi utopia anche perché erano in un girone comunque non difficilissimo ma comunque molto equilibrato forse uno di quelli più equilibrati olanda austria ucraina macedonia erano a parte forse la macedonia del nord tre ottime squadre quindi ragazzi forza italia mettiamo un like se ci credete andiamo fino in fondo iscrivetevi al canale seguitemi su instagram signori bella